Per la nostra gente, ha detto il Presidente Sergio Mattarella, il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni, l'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo. Ho voluto citare le parole del nostro Presidente della Repubblica perché siamo tutti consapevoli delle difficoltà del nostro Paese. Siamo altresì qui oggi perché ci accomuna la scelta, unica probabilmente in Europa in questo momento, di fare un primo passo di rilancio proprio del Paese, puntando sulle lavoratrici e i lavoratori pubblici, quelli che il Presidente Mattarella ha definito come il volto della Repubblica. Ci sono precedenti importanti a cui voglio richiamarmi dalla nascita della Repubblica in poi. Ma è nel 92 che le drammatiche crisi finanziarie e politiche portarono a compiere una scelta inedita, costruire una stagione di confronto che ha consentito al Paese di uscirne più forte. Con la firma di oggi vogliamo mettere le basi per la costruzione di una nuova Italia, partendo dalle intuizioni di Carlo Azzeglio Ciampi per avviare un percorso che investa sulle parti sociali, sull'innovazione. È lo spirito di allora che bisogna recuperare e che ricordo personalmente, per l'onore che ho avuto di poter dare il mio contributo come giovane consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri di allora. La firma di oggi assegna alla coesione sociale non una semplice ripetizione retorica, ma un valore fondamentale di uno Stato che si rinnova, si modernizza sul valore della persona e della partecipazione. La scelta del Presidente Mario Draghi di valorizzare con la sua firma l'accordo di oggi pone questo nuovo inizio sotto i migliori auspici, per il Paese e per la sua capacità di puntare sulla responsabilità di tutte le parti per costruire un piano nazionale di recovery e resilienza che investa sullo Stato e sui suoi servitori. Uno Stato che si rinnova rappresenta la carta migliore per superare la retorica pubblico-privato, da distanze garantiti e non garantiti, chiede impegno e responsabilità condivise per obiettivi comuni. Questo patto inaugura una nuova stagione di relazioni sindacali, che il negoziato che si apre per il rinnovo contrattuale avverrà in questo contesto. Venerdì convocherò tutte le confederazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego con l'obiettivo di avviare il negoziato in tempi brevi. È per noi il migliore segno di ripartenza. Un buon contratto è un investimento nella fiducia reciproca, nella stabilità e nel carattere innovativo delle relazioni di lavoro. Ogni processo di innovazione è, nella cultura di chi vi parla, un percorso di partecipazione diffusa. Puntare sulle persone al servizio dello Stato deve significare guardare avanti, insieme più forti. Sono grato ai segretari generali di CGL, CISO e UIL per l'immediata disponibilità a mettere in campo questo nuovo cammino. Il riconoscimento reciproco delle diverse istanze da rappresentare è il modo migliore con cui vogliamo ripartire e il metodo che vogliamo offrire al Paese per dipanare criticità e cogliere le innumerevoli sfide a cui siamo tutti chiamati. Grazie. Intervento del Segretario Generale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Maurizio Landini. Buongiorno a tutti e a tutte. Quello che stiamo facendo qui oggi è un atto molto importante, sia per i contenuti del patto, sia per il significato che questo patto ha. La scelta di investire sul lavoro, sull'innovazione del lavoro pubblico, sulla buona occupazione, sulla formazione, sull'investimento per un miglior funzionamento di tutto il lavoro pubblico e quindi per migliorare i diritti e le condizioni dei cittadini e per favorire e velocizzare il processo di funzionamento della macchina pubblica per creare lavoro e favorire gli investimenti, credo che sia un obiettivo molto importante e che sia assolutamente importante anche il modo e il metodo con cui ci stiamo muovendo. Abbiamo bisogno di un confronto, abbiamo bisogno di trovare le necessarie sintesi che siano in grado di rispondere ai problemi che oggi abbiamo e ai tanti bisogni che nel Paese esistono. Innanzitutto di creare lavoro, di creare buona occupazione, di dare un futuro ai giovani, di dare un futuro alle donne e soprattutto un investimento sul lavoro pubblico e il rinnovo dei contratti in un'idea anche di miglior funzionamento dei servizi pubblici e anche la condizione per fare in modo che gli investimenti che sono necessari nel nostro Paese abbiano anche quella velocità e quel rispetto dei tempi che la stessa Europa oggi ci chiede. E credo che questo sia un punto molto importante. benissimo la notizia che il Ministro ci anticipava e cioè che dopo questo patto cornice parte già da venerdì un confronto che nel merito coinvolge direttamente tutti i sindacati di categoria per dare gambe e corpo a entrare nel merito di tutti quelli che sono gli impegni che qui sono indicati e da questo punto di vista si apre, io credo, una fase molto importante e molto significativa. E naturalmente voglio indicare tre punti che mi sembrano molto significativi. Il primo è l'investimento sulla formazione. Nel patto si ragiona su un diritto, dovere soggettivo alla formazione continua, all'ingresso di nuovi giovani e al miglioramento del funzionamento. E in più si indica che l'innovazione, il miglioramento del funzionamento della pubblica amministrazione si fa investendo sulle lavoratrici e sui lavoratori, sulla loro intelligenza, sulla loro partecipazione. Il rinnovo del contratto nazionale che sia in grado anche di riconoscere queste professionalità, di riconoscere queste capacità e di regolare anche tutte le forme di lavoro che oggi si esprimono, compreso anche il lavoro a distanza e di valorizzare anche la contrattazione, non solo quella nazionale, ma anche quella che avviene nei luoghi di lavoro per affrontare questi processi, io credo che sia anche questo un segnale molto importante e significativo. E quando dico un significato generale della grande giornata che stiamo facendo è perché questo metodo di confronto e di ricercare insieme, di trovare delle soluzioni è per noi una cosa, e la dico in modo diretto, per noi è importante perché questo tema non dovrà affrontare solo il problema del lavoro pubblico. Abbiamo davanti a noi tutta un'altra serie di temi, penso alla riforma degli ammortizzatori sociali, penso alla riforma del fisco, penso al piano di investimenti per la ripresa e la resilienza e la necessità che questo avvenga con un confronto e con un coinvolgimento delle parti sociali e un investimento sul lavoro, credo che sia un fatto molto importante, perché la coesione sociale e la democrazia si rafforza se le persone possono, attraverso la loro intelligenza e il loro lavoro, vivere dignitosamente. E noi dobbiamo dare questa prospettiva ai giovani e alle donne, dobbiamo darla al mezzogiorno, e credo che questo sia un punto molto importante. È il momento della responsabilità per tutti di risolvere i problemi, di risolvere l'emergenza che abbiamo e naturalmente quando parliamo di pubblica amministrazione stiamo parlando anche di sanità, stiamo parlando anche di conoscenza, stiamo parlando anche di quegli altri due diritti fondamentali che sono il diritto alla salute e il diritto alla conoscenza come elementi oggi importantissimi. Questo vuol dire far crescere il Paese e questo vuol dire davvero dare un messaggio di speranza e di fiducia. È il momento del fare, è il momento di risolvere i problemi e di coinvolgere le persone. E credo che sia importante per questo quello che stiamo facendo e c'è la piena condivisione, il pieno sostegno della CGL a questo processo insieme alle altre due confederazioni. Grazie. Intervento del Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, Luigi Sbarra. Sì, buongiorno. Un traguardo strategico tagliato insieme in modo veloce, condiviso, efficace. Per questa ragione mi sento di ringraziare il Ministro Brunetta che ci ha creduto, ha negoziato questo accordo, questo patto in maniera intensa con Cigerius Ruil. Ringrazio il Presidente Draghi, il Governo, per averlo permesso, aprendo un dialogo serrato e costruttivo con il Sindacato. L'accordo che firmiamo esprime valori e contenuti importanti sia per il mondo del lavoro pubblico che per il Paese, guardando al presente e soprattutto al futuro. Guarda al presente per vincere la sfida immediata della pandemia e della crisi economica, sociale, produttiva, occupazionale, cogliendo in pieno le esigenze di cambiamento della pubblica amministrazione per rispondere in maniera efficace e con maggiore tempestività ai bisogni, alla qualità, alla quantità dei servizi verso i cittadini, le famiglie e le imprese. Ma offre l'intesa risposte importanti anche ai lavoratori, alle lavoratrici, creando le condizioni per rilanciare l'occupazione, per riformare gli ordinamenti professionali, per rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro e finalmente disciplinare per via contrattuale le forme di lavoro eseguite in modalità agile. Dicevo, guarda al presente e al futuro. Al futuro perché punta su un rinnovato ruolo della pubblica amministrazione. Come vero grande motore propulsivo di cambiamento, di modernizzazione del Paese, punta a grandi investimenti sull'innovazione tecnologica, attraverso la digitalizzazione, sul cambiamento dell'organizzazione del lavoro, attraverso la riqualificazione professionale e l'aggiornamento delle competenze. Mi sia consentito di indicare due grandi temi e chiudo che emergono dall'intesa. Uno di metodo e l'altro di merito. Nel metodo entriamo in una fase nuova che esalta il ruolo delle relazioni sociali, rafforza l'impianto privatistico, sposta il baricentro del diritto amministrativo alla contrattazione collettiva e affida l'ammodernamento della pubblica amministrazione a una impostazione non calata dall'alto ma realmente condivisa. Nel merito ci sono aspetti di assoluto rilievo. Chiudiamo dopo tanti anni una vertenza sui temi che riguardano i processi di valorizzazione del lavoro pubblico, acceleriamo e avviciniamo l'azione di reclutamento ai territori, si riconosce il diritto soggettivo alla formazione, si valorizzano le professionalità interne e poi si dà una spinta forte, potente al rinnovo dei contratti nazionali e si ripristina l'esperienza della contrattazione di secondo livello con un sistema anche di detassazione, di defiscalizzazione del welfare negoziato e dei premi di risultato. Ecco, penso che su queste linee condivise oggi imprimiamo insieme una spinta partecipata alla ripartenza del Paese nel segno di una nuova concertazione, di un nuovo dialogo sociale da sostenere, incentivare e stendere in tutti gli ambiti delle riforme lavoro, recovery, investimenti mezzogiorno. La CISL raccoglie in pieno questa sfida ed è pronta a dare anche nelle settimane successive contributi concreti finalizzati al bene comune. Intervento del Segretario Generale dell'Unione Italiana del Lavoro Pierpaolo Bombardieri In uno Stato democratico la pubblica amministrazione garantisce tutti i giorni servizi essenziali, servizi che siano in grado di garantire il diritto di cittadinanza di tutti, nessuno escluso. Dalla sanità alla scuola, dalla giustizia alla tutela dei più deboli. Rafforzare i diritti pubblici, rafforzare gli interventi nella pubblica amministrazione significa per noi garantire pari opportunità e pari diritti. Abbiamo apprezzato la scelta del Presidente Draghi e del Ministro Brunetta nel metodo, nelle scelte che identificano la coesione sociale come un obiettivo da raggiungere e da mantenere, soprattutto in un momento così drammatico come quello che stiamo attraversando. e questo primo accordo identifica un percorso, quello che con Next Generation il nostro Paese dovrà fare, uno degli asset strategici di questo Paese sarà la pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che deve diventare un motore di sviluppo che garantisce massicci interventi nell'investimento nel capitale umano e ovviamente proverà a semplificare e a delegificare per garantire a tutti i cittadini una pubblica amministrazione più efficiente e più vicina al territorio. Per noi tutto questo significa investimenti, digitalizzazione, connettività con piattaforme efficienti, tutte cose che noi abbiamo chiesto nel corso di questi anni e che oggi diventano realtà nell'accordo che sottoscriviamo. Ed è ovvio che a noi abbiamo accettato con piacere un nuovo percorso di relazioni sindacali, i rinnovi contrattuali, gli investimenti sulle risorse umane, l'ingresso di nuove generazioni di lavoratori. Questi sono punti per noi importanti sui quali lavoreremo da venerdì con la convocazione all'Aran ma che ci accompagnano nell'identificazione di un Paese migliore, di un Paese che deve riprendere e accorrere riprendere il suo percorso di sviluppo ricordando che tutto quello che noi oggi stiamo facendo deve dare anche una risposta alle crescenti diseguaglianze di questo Paese. Grazie. Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Prima di tutto grazie grazie a tutti voi nel corso delle consultazioni ho avuto modo di esprimervi quanto io tenga a questo confronto e a questo dialogo. Oggi è la prima occasione formale d'incontro dopo la formazione del Governo e vi ringrazio molto. Voglio ringraziare anche il Ministro Brunetta che ha preparato questo patto. Quindi grazie ancora alle Confederazioni qui presenti. Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. se il primo funziona la seconda funziona e se il primo non funziona la società diventa più fragile più ingiusta. Quindi consideriamo questo ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. Poi questo è sempre vero con la pandemia è ancora più vero se pensate alla capacità alla sacrificio dei medici degli infermieri degli insegnanti delle forze dell'ordine del personale degli enti territoriali e statali nel dare nel fornire i servizi essenziali. Quindi a fronte di questa centralità del settore pubblico se però guardiamo la situazione attuale concludiamo che c'è veramente molto da fare. Vi do già soltanto due numeri. L'età media oggi è di 50 e qualcosa mi pare se non sbaglio di 50 quasi 51 anni 20 anni fa era di 43 anni 43 e mezzo quindi dal punto di vista demografico per ragioni che trovano la loro radice in eventi anche lontani devo dire però è stato un progressivo come dire indebolimento della struttura demografica della pubblica amministrazione. Secondo aspetto la formazione oggi guardando di nuovo due numeri sulla formazione vediamo che si spendono ben 48 euro a persona per la formazione del settore pubblico ho detto bene ironicamente e un solo giorno è destinato alla formazione del personale pubblico. In questa situazione avvengono due cose primo la pandemia e la pandemia ci ha fatto riflettere su tanti aspetti del nostro modo di vivere ma certamente ci ha come dire ci ha rivelato la centralità del settore pubblico nel come dire nel proteggere il nostro modo di vita nel proteggere anche se volete la qualità della nostra vita e la seconda il secondo evento è il piano di ripresa e resilienza questi due eventi richiedono nuove professionalità quindi richiedono investimenti in formazione e richiedono nuove forme di lavoro se voi pensate allo sviluppo del lavoro smart working come si chiama in inglese ci sarà anche una parola di italiano adatta per descriverlo ma vediamo come è cambiato il nostro modo di lavorare nuove professionalità richiedono investimenti e richiedono nuove regole questo è quello che oggi stiamo cominciando il patto è sicuramente un evento di grande importanza perché come è stato detto è un evento che importanza per il metodo importanza per il contenuto importanza per questa relazione di dialogo che c'è ma è ricordiamocelo il primo passo il molto se non quasi tutto resta da fare ed è con l'augurio che sapremo tenere fede a contenuto di questo piano alle aspettative alle promesse di questo piano che vi ringrazio di nuovo tutti per oggi grazie a ora luogo la firma del patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmano per la presidenza del consiglio dei ministri il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta per la confederazione generale italiana del lavoro il segretario generale Maurizio Landini per la confederazione italiana sindacati dei lavoratori il segretario generale Luigi Sbarra per l'unione italiana del lavoro il segretario generale Pierpaolo Bombardieri la cerimonia è conclusa a presto a presto Grazie a tutti.